La vittoria convincente contro Franca Villa non è stato un caso isolato. La conferma per l'Olimpica Basket è arrivata anche dal convincente successo a Bari contro l'Adria per 90-43 nella non aggiornata di ritorno della Serie C Silver di basket. Sin da subito il quintetto biancazzurro con Moresi, Samuailovic e Buono con l'innesto di Malvede e Mazzilli e Cipri a protezione della linea difensiva in alternanza. Detto subito i tempi della gara e di pochi minuti ottengono il massimo vantaggio, 22-9. Di contro i Moresi non riescono a investire una reazione degna di questo nome. Troppe le essenze di peso e molti errori favoriscono il gioco di giallo-bluo Fantini che all'intervallo lungo chiudono sulle 40-24. Con il risultato acquisito, Coccio Cesmondo mette in campo i giovani tor lontani di noia che non sfigurano e vanno a riapperto tra gli applausi dei compagni e dei tifosi giunti in buon numero da Cerignola. Ancora un altro passino avanti per l'Olimpica, sulla strada verso una salvezza meno tortuosa, ma l'importante sarà non abbassare la guardia. Già nella delicata sfida esterna, nell'infrasettimanale di giovedì a Dostuni, vincente a Mola per 93-75. Mimmo Siena, Speciale News.